Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Sono Mariano ed ogni giovedì ti vado a mettere delle piccole pillole di matematica, informatica, tecnologia. Oggi andiamo a vedere stampa unione. Che cos'è stampa unione? È un metodo per andare a scrivere decine, centinaia, addirittura migliaia di email andandone a scrivere una soltanto. Infatti stampa unione vuol dire che siccome un tempo non si inviava un email ma si stampavano soltanto le lettere, dunque tu andavi a scrivere una sola lettera andandola ad unire con un foglio Excel o un database che già tu hai. Quindi noi andremo a vedere come andando a scrivere un solo documento di Word e andandola ad unire con un documento di Excel che invece conterrà tutto l'elenco delle persone a cui vorremmo andare ad inviare le nostre email potremmo andare a fare un lavoro davvero eccellente andando a risparmiare tantissimo tantissimo tempo. Immaginiamoci quindi che quando devo andare a scrivere ai miei clienti e ai miei fornitori invece di andare a scrivere decine di email e quindi caro Franco, cara Sandra, caro questo, insomma andandola a scrivere a mano invece posso fare una sola operazione. Quindi se tu devi scrivere i tuoi clienti, i tuoi fornitori, i tuoi studenti alla segreteria della scuola e così via, puoi andare ad utilizzare un solo strumento e vai a risparmiare davvero tantissimo. Ricordo ancora che quando lavoravo in una azienda chi sapeva fare stampa unione era un po' il genio dell'informatica perché non era facilissimo tanti tanti anni fa. Invece adesso la procedura è molto semplice quindi la andremo a vedere passo così anche tu potrai andare ad utilizzare questo fantomatico strumento chiamato stampa unione. Prima di iniziare però le mie solite raccomandazioni lasciami nei commenti nel caso in cui mi sono scordato qualcosa dove se andrai ad utilizzare stampa unione ed inoltre ti chiedo ti prego ti supplico di iscriverti al mio canale. A te non costa nulla invece per me è un grandissimo enorme favore che nemmeno si immagini. Clicca sulla campanellina così ogni volta che vado a mettere un nuovo video come questo sarei la prima o il primo ad essere avvisato. Ora ti ricordo che questi invece sono tutti gli altri miei social. Nel caso in cui mi vuoi andare a vedere da altre parti mi raccomando telegram. Due, tre volte a settimana offerte imperdibili te le vado a mettere sempre. Iniziamo subito con stampa unione vai. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è un file excel in cui abbiamo già inserito i nostri dati che poi vogliamo andare a condividere quindi a inserire all'interno di una mail ed un foglio word in cui andremo a scrivere la mail vera e propria. Ecco facciamo che io ad esempio volessi andare a scrivere una mail a tutti gli studenti poi ognuno di voi magari si immagina la propria situazione che meglio descrive il proprio il proprio lavoro quindi non so attività commerciali oppure attività di marketing e così via. Immaginiamo che qui invece io voglio andare a comunicare l'esito di alcuni compiti in classe o di alcune verifiche agli studenti. Alcune annotazioni prima di iniziare è che il fatto che i nomi debbano essere scritti in modo corretto e non solo in modo corretto dal punto di vista grammaticale ma se ad esempio voglio chiamare qualcuno per nome non posso avere un campo nome cognome quindi devo farne magari una una colonna in cui vado a scrivere nome una colonna in cui vado a scrivere cognome altrimenti non posso andarli a spezzare è sempre buono fare una cosa del genere. Inoltre tutti i dati che io voglio andare ad unire debbono essere all'interno del primo foglio che io vado a utilizzare. Non utilizziamo i fogli successivi altrimenti la procedura si complica. Le voci ad esempio particolari come percentuali o cose del genere debbono essere scritte bene. Ad esempio se qui io volevo scrivere 7,5 era bene che invece di scrivere 7,5 quindi magari con una frazione andavo a scrivere 7,5 e in questa maniera era molto più semplice. Inoltre il foglio Excel deve essere sempre sul computer locale quindi ad esempio io non lo posso tenere online e pensare di fare stampa unione tra Office 365 online e invece l'Office che io ho sul computer. Ed inoltre prima di iniziare dobbiamo essere certi che tutte le modifiche siano già state fatte altrimenti una volta che vado ad unire il foglio di Excel con la mia lettera le modifiche non verranno prese se vado a fare delle modifiche successive. Quindi iniziamo ad esempio a scrivere la nostra lettera e vedere come unire queste due entità che a prima vista sono separate. Quindi un foglio di Excel e un foglio bianco di Word. Caro e qui dobbiamo andare a mettere il nome. Ad esempio caro Matteo. Come facciamo? Allora vediamo che qui sulla barra principale abbiamo questa indicazione qui. Lettere. Se andiamo qui all'interno questo è tutto lo strumento per andare ad utilizzare stampa unione. La prima cosa che dobbiamo fare è selezionare i destinatari. Qui possiamo addirittura crearne un nuovo elenco, usarne uno esistente che è quello che andremo a fare noi oppure potremmo andare a scegliere già dei contatti di Outlook nel caso in cui già ce li abbiamo. Io ho un Apple quindi contatti Apple addirittura da FileMaker Pro che è un altro programma che potrei andare ad utilizzare. Usa un elenco esistente. Quindi adesso io vado a dirgli dove andare a trovare il foglio Excel che voglio utilizzare. Lo vado a ritrovare all'interno del mio computer ed il file si chiama Nomi. Lo vado a cliccare. Ci sarà un warning per dire guarda io adesso lo vado ad unire gli dico di sì e mi chiede appunto vedete il foglio in questo caso foglio 1 e l'intervallo di celle. Io in questo caso prendo tutto il foglio di lavoro quindi non voglio andare a dire qual è l'intervallo di celle. Allora gli vado a dire ok. A questo punto lui mi dirà che posso ad esempio andare a filtrare i destinatari e cose del genere. Come faccio ad inserire il nome? Vediamo che qui esiste questo altro tasto. Una volta che io lo clicco vedete come lui va a leggere tutti i campi e i campi sono le intestazioni. Vedete qui c'è nome, cognome, classe, voto, materia, email e quindi vediamo come qui va a leggere le stesse cose. Nome, cognome, classe, voto, materia, email. Io in questo caso siccome voglio chiamarlo per nome dico caro e metto nome. A questo punto vedete come lui mi ha messo nome, non mi ha messo il vero nome ad esempio Matteo, Gianna eccetera e vado a capo. Il consiglio di classe della... qui voglio andare a mettere la classe allora vado a mettere classe ecco così ti comunica che hai conseguito la votazione e qui vado a mettere il campo voto, la votazione e poi gli voglio dire la materia. In e vado a mettere materia e qui andiamo a mettere semplicemente magari la firma consiglio di classe, lo firmiamo il nome del consiglio di classe e qui vado a riprendere di nuovo la classe. Quindi vediamo che abbiamo scritto questa semplicissima email. Come faccio a vedere se effettivamente è quello che io volevo? Qui vediamo che abbiamo un altro tasto che è abc che vuol dire anteprima risultati quindi dal fatto che mette qui dei campi anonimi, nome, classe, voto, mi andrà a sostituire i veri nomi, la vera classe eccetera. Lo vado a cliccare, vado a cliccare qui e vedo che ad esempio vedete come mi ha automaticamente messo i veri nomi. Caro Matteo il consiglio di classe di prima A, vediamo che Matteo frequenta la prima A, ti comunica che è conseguito la votazione di 7.5, vedete votazione 7.5 in matematica, consiglio di classe della prima A. Qui posso andare a scorrere tutti gli altri per vederli, vedete caro Gianna, d'accordo qui ad esempio bisognerebbe andare a sistemare, mettere una A, una O e potrei mettere qui chiaramente un campo A, O se ci pensi in modo che posso andare davvero a formatarlo in maniera molto buona. Cara Gianna il consiglio di classe di primati, consiglio la voto 8 in fisica, vediamo come Gianna è stata molto brava, Fabio, Silvio e così via. Una volta che abbiamo visto che tutto funziona, quindi che non solo l'abbiamo con i campi ma anche con il fatto che tutto è nella maniera giusta, possiamo andare a finalizzare. Qui abbiamo quest'altro tasto, vediamo che potrei modificare i singoli documenti nel caso in cui in qualcuno ci voglio aggiungere alcune informazioni, ad esempio non so se qualcuno ha preso un voto minore a 6, potrei andare a fare un'altra modifica. Ecco, continuo a seguirmi perché andremo a vedere anche come andare a fare stampa unione e anche magari a mandare email nel caso in cui ad esempio ci siano delle insufficienze, oppure immaginati in un'azienda mandare email nel caso in cui il budget sia minore di. Ecco, quindi ho già in mente di fare cose del genere, quindi non una semplice stampa unione come questa, ma anche stampa unione un pochino più complessa, quindi continuo a seguirmi, oppure potrei andare a stampare tutti i documenti nel caso in cui devo fare un invio cartaceo, oppure unire a messaggi di post elettronica, che è quello che vogliamo fare noi adesso. Quindi in questo caso andrà a aprirmi Outlook, vado a dirgli unisci messaggi a post elettronica, vediamo che mi chiede a chi voglio mandare e chiaramente qui c'è il campo email, io voglio mandarlo al campo email e l'oggetto è magari mettiamo risultati, così che chi legge sull'oggetto vede questo. Potrei inviarlo come testo, come allegato, ma non mi va di inviarlo come allegato e come messaggio HTML. Gli dico stampa unione imposta in uscita e quindi immediatamente questi messaggi saranno inviati e lo andiamo a vedere subito. Clicco, mi apre, vedete automaticamente Outlook e se vado su posta inviata vediamo come abbiamo tutta questa posta che adesso io ho inviato. Adesso andiamo a vedere come è la formattazione, quindi se ad esempio vado online in uno di questi era, vedete qui sono in uno di quei destinatari e vado a leggere, vedete che mi dice caro Silvio il consiglio di classe di quarta A ti comunica che hai conseguito la votazione 6 in geografia. Consiglio di classe quarta A. Vedete questo è il destinatario perché io ho aperto uno di questi indirizzi di posta elettronica. A Silvio arriva questa email qui, quindi vediamo come è molto semplice, formattato davvero in maniera molto molto carina, elegante e assomiglia tantissimo alla email che noi abbiamo scritto con Word. Ecco direi che quindi possiamo adesso andare ad immaginarci noi qual è l'utilizzo che ne possiamo andare a fare. Quindi adesso ci vediamo dall'altra parte, mi raccomando lasciami sempre nei commenti qualsiasi cosa mi sono dimenticato, qualsiasi cosa che tu pensi sia molto più utile e se vuoi sapere ad esempio anche altre cose per quanto riguarda stampa unione. Ci vediamo di là. Dunque adesso anche tu potrai essere considerato un guru dell'informatica perché potrai andare a scrivere una sola mail e invece decine e centinaia di mail potranno essere stampate oppure inviate automaticamente. Ora quindi non mi resta che salutarti ma prima ti devo ricordare di iscriverti al mio canale. A te non costa nulla, ricordatelo invece per me è un grandissimo enorme favore che nemmeno ti immagini. Clicca sulla campanellina e questi sono tutti gli altri miei social. Mi raccomando Telegram. Due, tre offerte a settimana te le metto sempre imperdibili. Adesso non mi resta che augurarti un buonissimo lavoro con Stampa Unione, un ottimo studio anche con Stampa Unione, perché no? E salutarti con il mio. Ciao ciao, alla prossima! Ciao ciao, alla prossima! Ciao ciao, alla prossima! Ciao ciao!